I consigli di lettura di oggi, il primo è La macchina del tempo di Herbert Wells, che era uno scrittore inglese che sostanzialmente ha dato la via alla fantascienza moderna, ma anche un visionario, uno che è riuscito a inventare quelle tematiche che poi ci siamo portati fino ad oggi, non solo la macchina del tempo, ma l'uomo invisibile o un viaggio nello spazio, ne ha fatte tante e devo dire che è un buon sistema, io lo consiglio nella parte di aprirsi la mente. Il secondo è Asimov, Isaac Asimov, scrittore di origine credo russa, che ha vissuto in America, morto negli anni Ottanta, che ha inventato, ha scritto una serie di romanzi di base scientifica, perché lui era un biologo e soprattutto lo si ricorda perché ha fatto la trilogia dei robot, lui è il primo che ha teorizzato il robot moderno, chiaramente nella narrativa. Poi Philip Dick, il più grande visionario della storia della letteratura moderna. William Barrocks, che invece è uno un po' più particolare, perché diciamo che è stato accostato alla big generation in qualche modo, anche se aveva un altro tipo di percorso, e lui ha scritto una serie di romanzi, tra cui Il pasto nudo, in cui ha sperimentato tecniche di scrittura chiamate catap, in cui mescolava le storie, le frasi e così via, ma che soprattutto ricostruiva un mondo attraverso la visione filtrata dall'esperienza della droga. E poi, non lo so mai pronunciare, questo è male, è Zamiatin, che è un precursore, uno che ha ispirato Orwell. Zamiatin ha scritto un romanzo che si chiamava Noi, che parlava di un futuro, adesso diremmo distopico, dittatoriale, da cui poi si può riconoscere in luce quello che è diventato poi 1984, un mondo super regolato, in cui il divertimento maggiore è leggere gli orari dei treni, perché sono molto precisi. Poi, altri consigli di lettura che do nella seconda parte di oggi, in cui, dopo che ci siamo aperti la mente, inquadriamo la figura dell'eroe che mi piace, che è l'eroe perdente. Cominciamo con Eric Ball, con l'opinione di un clown, che penso che tutti conoscono, è stato formativo per tante generazioni, la storia di un clown triste, oserei dire, che nel giro di 3-4 ore fa vedere come è finita male la sua vita. Poi il lupo della steppa di Ermanesse, Ermanesse che, insomma, sappiamo tutto, ha scritto tantissime robe, ma soprattutto di lui mi ricordo questo, più che il gioco delle perle di vetro o Siddharta, perché c'è un uomo che fa pugni con se stesso, dalla sua parte razionale e la sua parte animale, infatti il lupo. E soprattutto trovo, come vide uscita dalla sua male di vivere, l'ironia, che io trovo una chiave molto forte. Poi, perché volevo ricordare almeno un italiano, Elio Vittorini, Uomini e no, che è un romanzo che è stato scritto durante la guerra, parla di un partigiano, nella sua lotta partigiana, di cui ho apprezzato soprattutto il modo di scrivere, di raccontare proprio la virtù del personaggio, perché il personaggio si mette in relazione con lo scrittore, è una sua proiezione in qualche modo. Finisce male, tragicamente, perché questa è una parte di Roy che perdono. E poi James St. Roy, che è il padre del noir moderno, anzi del noir contemporaneo, in cui tutti i romanzi vanno bene. Io ho una preferenza per White Jets, perché l'avevo trovato il più struggente. E comunque sempre questa è la Los Angeles degli anni 40, super corrotta, super violenta. Insieme ai libri do anche due consigli di visione. Consiglio almeno due titoli, diciamo, di film di fantascienza che penso fondamentali, uno è Matrix e l'altro è Zardoz di John Borman, che è un visto in pochi, ma merita, con Sean Connery sempre in mutande. E poi, vabbè, altri consigli di visione, Casablanca di Curtis, quello con Henry Bogart, poi Blade Runner e Lungo Dio di Robert Altman, che merita assolutamente. Poi ho dei consigli di ascolto, se vi piace la musica sociale, sono stato formato su quella, London Calling dei Clash e tutto Johnny Cash. Basta.